Ciao a tutti, vediamo come fare questo incarico. Salta con un'auto sportiva e percora i 70 metri prima di atterrare. Dovete trovare un'altura tipo questa e poi corre alla massima velocità tipo turbo e via. Oplala, ecco fatto. Molto semplice no? Bella lì, se il video è stato utile, iscrivetevi al canale, lasciate like, eccetera, eccetera, eccetera. Bella lì, codice creatore oggi, ciao!